E' stato arrestato all'alba in un hotel nella zona di via Fiorentina d'Arezzo dopo una lunga notte di ricerche da parte dei carabinieri del radiomobile guidati dal tenente Planera che hanno battuto ogni singolo albergo. Si tratta di Rosario Pinto, camorrista, in città per vendere droga. In camera infatti c'era un bel mucchio di soldi, migliaia di euro, probabile frutto dello spaccio. L'inchiesta che ha portato all'arresto di Pinto è partita dalla procura di Napoli che aveva saputo della sua presenza ad Arezzo e in campagna Pinto è stato rispedito e dove probabilmente si farà un bel po' di anni di carcere. Rosario Pinto appartiene al clan Polverino, uno dei più potenti della camorra napoletana che detiene il monopolio sull'ascisce che proviene dal Marocco. Il boss Giuseppe Polverino era stato arrestato in Spagna lo scorso anno dalla Guardia Civil, ma tornando a Pinto non è l'unico ad essere stato arrestato. Un blitz internazionale ha portato in manette tra Spagna e Campania un centinaio di altri affiliati. Il pusher, sorpreso nel sonno, si è fatto arrestare senza dire nulla.